non essere il migliore, sii unico credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più per liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale e se c'è crescita c'è carezza e infatti come vedi anche dal titolo di questo episodio parleremo oggi di un concetto dell'analisi transazionale se non conosci cos'è l'analisi transazionale devi sapere che è un approccio di psicoterapia cioè un metodo di lavoro per noi psicologi e psicoterapeuti grazie al quale possiamo aiutare le persone a crescere e affiorire ogni giorno all'interno dei loro percorsi di psicoterapia è il mio approccio terapeutico del quale sono totalmente innamorato tanto da averci creato addirittura un evento infatti quest'anno, questo maggio 2022 è stato il mese in cui abbiamo avuto vita la seconda edizione del festival dell'analisi transazionale un evento di psicologia e di crescita dedicato a tutte le persone che hanno a cuore il loro benessere personale e se anche tu hai a cuore il tuo benessere personale devi sapere che il concetto di cui parleremo oggi cioè il concetto delle carezze è assolutamente centrale anzi mi vorrebbe dire è alla base perché la carezza, come sentirai, è la più piccola unità di riconoscimento e se c'è un bisogno su tutti che noi esseri umani abbiamo e del quale siamo sempre e comunque affamati è proprio il bisogno di riconoscimento il modo in cui tu sei stato riconosciuto o riconosciuta da piccolo ha creato quella che sentirai nominare essere l'economia della carezza infatti tante volte è difficile per noi dare o addirittura ricevere carezze o darci delle carezze che sono appunto dei complimenti, delle affermazioni dei modi che possiamo veramente mettere in pratica fin da subito per aumentare la nostra autostima per sostenerci nei momenti difficili che tante volte la vita ci mette di fronte ecco, allora nell'episodio di oggi insieme ai ragazzi di Sfide Academy perché sentirai anche le loro voci all'interno di questo episodio beh parleremo della okness ma soprattutto del tema delle carezze che è stato centrale anche durante appunto l'edizione del Festival dell'Analisi Transazionale 2022 e grazie anche alle loro esperienze potrai renderti conto anche tu di quanto è fondamentale imparare a dare e a ricevere carezze ecco, non ti soffermare a questo termine che sembra magari un pochino banalotto un pochino da bambini ma che è questa cosa delle carezze ecco, non ti fermare qui ascolta tutto quanto l'episodio perché sono convinto che all'interno di questo audio troverai almeno un modo con cui tu hai imparato a bloccarti a fermarti, a non chiedere e a non dare carezze quindi attraverso questo episodio spero di aiutarti a sbloccare la tua mente sbloccando uno dei modi con cui puoi dare e appunto ricevere carezze ogni giorno ma allora ragazzi non perdiamo altro tempo entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme cosa sono le carezze in analisi transazionale e soprattutto come possono aiutarci nella nostra fioritura personale di tutti i giorni perfetto, allora stiamo registrando questo episodio dedicato alle carezze io ci tengo a precisare a chi sta ascoltando questo episodio del podcast separatamente in questo momento preciso io sono collegato, connesso con i ragazzi di Sfide Academy che cos'è Sfide Academy? Sfide Academy è un gruppo di lavoro che ho creato dal podcast liberamente dove alcuni di voi ascoltatori hanno deciso di iniziare un proprio percorso di fioritura personale accettando 12 challenge, cioè 12 sfide spalmate su 12 mesi e ogni mese noi ci confrontiamo con una challenge differente il mese di maggio è stato un mese particolarmente importante per tutto il percorso di Sfide Academy perché abbiamo creato insieme ai ragazzi di Sfide Academy appunto la challenge dedicata alle carezze un concetto di analisi transazionale che è fondamentale per la crescita e la fioritura personale nel frattempo datemi un secondo che faccio entrare anche altre persone che stanno chiedendo l'accesso ma durante il festival dell'analisi transazionale questo evento di psicologia e crescita personale che ho personalmente creato ormai da due anni e che quest'anno ha vissuto la sua seconda edizione che si è arricchita addirittura di un'esperienza dal vivo dove anche molti dei ragazzi di Sfide Academy sono venuti addirittura in presenza quindi prendendo il treno chi è arrivando addirittura all'alba penso per esempio a Luca che mi ha aiutato anche ad allestire proprio la location o penso a Guglielmo insomma ad altre persone anche a Lucilla che sono venuti e quindi abbiamo capito una cosa che le carezze sono alla base della nostra fioritura personale ed è per questo motivo che durante questo episodio faremo prima di tutto una panoramica teorica del ruolo che hanno le carezze nel nostro diciamo sistema psicologico e che tante volte noi tendiamo a mettere da parte o a sottovalutare o a pensare che in realtà non siano così importanti e in un secondo motivo vorrei che proprio ogni componente del Sfide Academy che in questo momento è collegato con noi possa raccontarci quella che è stata la sua esperienza durante questi 21 giorni di challenge vissuti insieme appunto all'interno dell'Accademy allora cominciamo dal tema delle carezze carezze è una parola che alcuni può piacere all'alcuni può dar fastidio perché sembra una banalità sembra una cosa che da bambini le carezze che cosa sono perché sono così importanti Matteo per la nostra fioritura personale perché devi sapere che in analisi transazionale che è un approccio psicoterapeutico è il mio approccio psicoterapeutico cioè il metodo di lavoro che io uso utilizzo con i pazienti che seguo online e in presenza a Roma nel mio studio le carezze la carezza è la più piccola unità di riconoscimento possibile ed esistente che cosa intendo dire che cos'è una carezza per esempio una carezza è anche banalmente un sorriso o un complimento una carezza può essere però anche per esempio un insulto ecco tutti questi sono modi in cui la nostra diciamo presenza come esseri umani viene riconosciuta oppure no e le carezze fanno riferimento a un bisogno profondissimo di ogni essere umano quindi anche di te che ascolti questo episodio ha a che fare anche con te cioè col tuo e col mio bisogno di essere riconosciuti nei nostri bisogni più fondamentali tanto è vero che qualsiasi tipo di carezza positiva o negativa che sia è meglio di nessuna carezza ecco quindi possiamo essere riconosciuti in diversi modi e in questo episodio vorrei insieme con te intanto per cominciare mettere qualche tassello fondamentale per capire quali tipi di carezze esistono quante tipologie di carezze esistono in modo tale che cominciamo un pochino ad orientarci ecco le carezze psicologiche appunto possono essere di vario tipo andiamole un pochino a delencare sono circa sette ci soffermiamo poi qualche istante su ognuna di esse per capirla al pieno tanto per cominciare le carezze si dividono in carezze positive quindi vediamo le prime due macro categorie le carezze positive possono essere per esempio come dicevamo prima un sorriso che riceviamo da parte di qualcuno o che facciamo nei confronti di qualcuno o anche addirittura un confidare un esprimere il ti voglio bene a un nostro caro un nostro amico una persona che abbiamo abbiamo accanto quindi queste sono le carezze positive le carezze negative possono essere per esempio frasi come non mi piaci oppure sei vestita o vestito male oppure non va bene questo tuo comportamento ok quindi queste sono le prime due macro categorie ma come puoi ben capire ne esistono altre due che sono carezze verbali e carezze non verbali quindi le carezze verbali come sappiamo sono quelle carezze psicologiche che vengono espresse sotto forma un po' di frase ok è qualcosa che tu puoi udire come ad esempio facciamo l'esempio classico non so hai un bel taglio di capelli ok quindi queste possono essere delle carezze verbali positive o negative come dicevamo prima oppure possono essere le carezze non verbali cioè tutte quelle carezze espresse attraverso per esempio il nostro non verbale quindi le nostre espressioni facciali la nostra mimica la nostra gestualità come ad esempio può essere un cenno di approvazione o la famosa pacca sulla spalla o quel gesto che facciamo con la testa quando per esempio stiamo in discussione o appunto stiamo in un confronto con l'altro ecco anche quel movimento con la testa quella gestualità quella mimica è una carezza non verbale poi ci sono carezze condizionate o incondizionate le carezze condizionate per esempio hanno a che fare con ciò che la persona fa cioè ad esempio quando diciamo un nostro figlio o una nostra figlia o un nostro partner o un nostro collega di lavoro per esempio ben fatto quando mi piace il tuo disegno io per esempio ho mia figlia di tre anni e mezzo che ogni istante che ha la possibilità un momento libero prende e disegna e poi vuole venire da me o da mia moglie a farmi vedere quello che ha disegnato ecco ogni volta che io gli dico ben fatto mi piace il tuo disegno ecco tutto questo possiamo chiamarlo una carezza sta condizionata perché è legata a quello che la persona sta facendo oppure le carezze possono essere anche incondizionate cioè hanno a che fare con ciò che la persona è ad esempio quando diciamo al nostro partner ti amo così come sei o sei importante per me mi trovo bene con te che bella persona che sei dal mio punto di vista ecco tutte queste frasi vedete sono delle carezze psicologiche positive incondizionate perché sono legate all'essere della persona non a ciò che la persona fa di per sé poi c'è un'ultima categoria che appunto sono le carezze di plastica ok che in realtà come suggerisce la parola stessa sono quelle carezze quel riconoscimento finto no quel riconoscimento non autentico pensiamo a quante volte no siamo costretti un po' dal nostro contesto a dover sottostare a certe gerarchie a certe dinamiche ecco e quindi ci sentiamo un pochino costretti a dare delle carezze da questo punto di vista e quindi ci sono le carezze appunto di plastica non sono quelle carezze finte e non autentiche questa piccola panoramica quindi queste sette tipologie di carezze servono per capire che cosa che le carezze psicologiche sono estremamente importanti sono molte molto importanti ed ogni persona ognuno di noi desidera diciamo riceve le carezze quando instaura una relazione sociale cioè le carezze sono il nostro il modo con cui ognuno di noi entra in relazione con l'altro quindi se in una relazione non otteniamo alcuna carezza psicologica dagli altri qual è l'effetto che sentiamo ci sentiamo soli non ci sentiamo visti e quindi ci sentiamo privi di valore mentre parlo prova anche tu a fare un pochino di introspezione prova a cogliere se quello che sto dicendo ha senso se anche un pochino ha a che fare con la tua esperienza personale quando non riceviamo nessuna tipologia di carezza nessuna forma di riconoscimento il sentimento che proviamo è quella di non esistere per l'altro e questo ci fa molto male proprio per questo motivo che sin da bambini quindi impariamo che piuttosto che nessuna carezza ovvero quindi l'indifferenza dell'altro è preferibile ricevere addirittura anche carezze negative questo è un assunto fondamentale dell'analisi transazionale e del concetto di carezze noi siamo talmente tanto affamati di carezze che piuttosto che restare totalmente senza siamo disposti anche ad imparare a stare all'interno di relazioni disfunzionali che ci rinforzano ci danno un senso di essere anche in maniera negativa quindi per esempio questo è ciò che fanno i bambini per esempio con i loro capricci oppure quando diventano oppositivi attraverso i loro comportamenti lamentosi o aggressivi per esempio escogitano un modo per essere considerati questi bambini seppure attraverso con modalità tante volte irritanti tante volte sgradevoli fanno in modo di ricevere carezze psicologiche un bambino quando comincia ad essere lamentoso vuole essere visto vuole essere riconosciuto e a volte il genitore può rispondere anche in maniera aggressiva quindi si instaura un pattern relazionale magari negativo magari aggressivo ma per il bambino è sufficiente per essere riconosciuto cioè è come a dire se non mi vedi per darmi affetto ed ascolto almeno almeno in questo modo mi vedrai sgridandomi capite quindi qual è l'importanza delle carezze alla base del nostro essere e quindi alla base di come noi costruiamo nel corso della nostra vita la nostra storia i nostri rapporti sociali che poi ci portiamo anche da adulti infatti per qualsiasi essere umano come dicevamo prima l'attenzione negativa è più facile da tollerare e possiamo anche arrivare a instaurare pattern relazionali del tipo punitivo o critico pensiamo a quante volte perché tutte le persone che entrano in relazione con me sono sempre critiche perché alla fine le persone mi sfruttano sempre perché noi abbiamo imparato nel corso della nostra infanzia che per essere visti è meglio addirittura essere 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 sfruttati o criticati piuttosto che non avere l'attenzione piuttosto che essere completamente ignorati questa questa dinamica della carezza in analisi transazionale è molto importante perché ci spiega come noi appunto siamo in grado e impariamo a sopportare anche le relazioni tossiche quelle che poi da adulti ci scomodano ma per il bambino in passato hanno avuto un ruolo fondamentale perché in un certo senso ci mantiene in relazione con l'altro e nella relazione con l'altro possiamo essere visti e riconosciuti c'è un tizio mettiamola così in analisi transazionale che è molto famoso si chiama Claude Steiner e lui sostanzialmente tira fuori dal cilindro questo concetto dell'economia delle carezze già sentite la parola stessa come un po' richiama no? questo quello di cui abbiamo appena parlato l'economia delle carezze no? per spiegare il motivo per il quale nelle relazioni ci sentiamo tante volte a disagio poiché abbiamo magari tante volte vissuto un senso di privazione no? anche Steiner sostiene infatti che tutti abbiamo bisogno di scambiarci carezze psicologiche e aggiunge anche che facciamo di tutto per guadagnarle per esempio lavorando duramente no? pensate a quelle persone che instancabili che devono occuparsi di tutto e di tutti no? quindi cos'è che abbiamo imparato nella nostra economia delle carezze che per poter ricevere la carezza per poter essere visto dovrò lavorare duramente oppure tutte quelle persone che hanno imparato a compiacere gli altri oppure abbiamo imparato ad adattarci o a iperadattarci nelle relazioni affettive aiutando gli altri fino allo stremo o addirittura recitando il ruolo e questa è molto raffinata come come soluzione dell'economia delle carezze no? addirittura abbiamo imparato a recitare il ruolo di essere persone incapaci di persone che hanno sempre bisogno di essere aiutate e sostenute dagli altri no? vedete come questa chiave di lettura dell'economia e delle carezze è molto importante anche per spiegarci alcuni nostri atteggiamenti per cui a volte ci incapacitiamo ci trasformiamo in persone non in grado sviluppando a volte anche dei disturbi d'ansia per esempio perché? perché in questo modo potremmo segnalare mandare un messaggio di SOS all'altro che attivandosi instaurerà una relazione con noi di aiuto che ci permetterà di sentirci essere visti no? vedete quindi come l'economia delle carezze è alla base delle nostre relazioni psicologiche e sociali no? cioè nonostante le carezze psicologiche siano facili a volte da dare o da prendere in realtà quello che dice l'economia delle carezze è che nel nostro contesto familiare è lì che dobbiamo andare a guardare cioè è lì che devi andare a vedere quanto è stato facile dare o ricevere carezze perché in base a quanto è stato facile nel tuo contesto familiare di partenza di base facile ricevere o dare carezze eccola lì che sarà facile dare e ricevere carezze anche per te da adulto no? perché a volte nella realtà non circolano in tante famiglie a sufficienza le carezze e quindi per poter ottenerle ogni bambino escoggi da una sua strategia funzionale per ottenerle no? non sapete quante volte anche in psicoterapia ma anche lavorando in tanti altri contesti nel del disagio psicologico ho potuto notare quanto nei sistemi familiari siano scarsi poveri in termini di carezze ed è per questo motivo che tanti bambini creano un serbatoio sempre molto in riserva di carezze psicologiche no? e che tende quindi a svuotarsi facilmente e quindi tanti atteggiamenti dei bambini che noi leggiamo come capricciosi come lamentosi come problematici in realtà sono diciamo soluzioni creative e strategiche che i bambini creano per poter entrare in relazione con il proprio mondo che è povero di carezze quindi l'economia delle carezze è dovuta sostanzialmente a cinque regole restrittive ora non voglio essere poi troppo troppo tecnico però mi piacerebbe elencartele perché così almeno poi possiamo anche passare a quella che è stata l'esperienza dei ragazzi dell'accademy quindi diciamo noi abbiamo cinque regole fondamentali che spesso e volentieri sono restrittive cioè detto pane al pane e vino al vino sono il modo con cui noi ci concediamo il dare o il prendere le carezze dagli altri per esempio una di queste regole restrittive è questa non dare carezze quando ne hai da dare mi piacerebbe che ognuno di voi potesse magari soffermarsi magari mettere anche in pausa l'episodio scrivetele sul foglio e vedete quanto vi corrisponde da uno a dieci questa cosa quante volte applichi questa regola non dare carezze quando ne hai da dare ecco questa regola ci porta in qualche maniera a trattenere i nostri riconoscimenti nei confronti degli altri per timore di essere derisi o rifiutati una seconda strategia restrittiva è non chiedere carezze quando ne hai bisogno quante volte ti sei fermato bloccato o bloccata nel chiedere carezze quando ne avevi bisogno no questa particolare regola può venirsi a creare e può creare un vero e proprio vuoto di riconoscimento dentro di noi se non stiamo attenti una terza strategia di diciamo di blocco una terza regola restrittiva nelle carezze è non accettare carezze se le vuoi pensate no quante volte le persone ci danno delle carezze ma poi noi non ce le prendiamo questa regola infatti ci porta a rifiutare riconoscimenti e complimenti facendo finta di non sentirli addirittura svalutando il valore di ciò che ci viene detto magari giustificandoci con pensieri del tipo non so ha un secondo fine l'ha detto tanto per dirlo l'ha detto ma non lo pensa davvero l'ha detto ma siccome è un mio parente è un mio familiare ma siccome mi vuole bene questo complimento non conta no l'ho chiesto io questo questo complimento perciò non essendo spontaneo questo questo riconoscimento non vale no provate un pochino veramente a immedesimarvi in una di queste regole restrittive quale quale mettete più spesso in campo no c'è una una quarta strategia di blocco nelle carezze che appunto per esempio è il non rifiutare carezze se non le vuoi quindi il contrario talvolta ci sentiamo infatti costretti ad accettare carezze negative finte o di plastica anche quando non le vorremmo no quindi per esempio cosa nella pratica che vorti sta cosa che per esempio noi stiamo applicando questa regola restrittiva cioè non rifiutare le carezze se non le vuoi quando ad esempio accettiamo gli insulti o le critiche che ci vengono mosse ingiustamente quante volte non siamo in grado di rispondere a un'accusa a una critica a una svalutazione che ci viene fatta perché questo avviene perché stiamo applicando questa regola no non rifiutiamo le carezze che non vogliamo una quinta e ultima strategia è appunto non dare carezze a te stesso quante volte ci capita no di non riconoscere di non valutare veramente quello che di buono facciamo quindi quello che abbiamo fatto nella challenge nella challenge di questo mese di maggio quindi la challenge dedicata alle carezze con i ragazzi di speed academy è proprio quello di mettere mano sullo scambiarci carezze l'un l'altro all'interno di questo gruppo visto che è una un academy è un luogo dove possiamo metterci alla prova e imparare qualcosa di nuovo ci siamo dati questo goal no scambiarci carezze psicologiche l'un l'altro e io sono convinto anche poi vorrei sentire la loro esperienza che questo ci fa un gran bene perché scambiare carezze psicologiche fa bene ci fa bene ma diciamo perché questo avviene cioè perché ci fa bene perché la realtà è che accogliere le carezze degli altri no oppure saper rifiutare quelle carezze negative o di plastica no vi ricordate quello che abbiamo detto prima oppure darsi carezze ha un effetto positivo sulla nostra psiche ha un effetto positivo sulla nostra mente e quindi sul nostro benessere psicologico in senso più ampio perché perché aumenta il rilascio di endorfine perché ci fa star bene ci piace quando l'altro ci riconosce non è una forma di narcisismo non è una dinamica narcisistica è una dinamica dell'essere umano perciò per togliere il filtro delle carezze che sono quelle famose barriere no queste cinque regole restrittive di cui abbiamo parlato prima dobbiamo allenarci no dobbiamo allenarci aspettate fatemi fare entrare anche a Narita che sta entrando adesso quindi perciò dobbiamo allenarci allenati anche tu che stai ascoltando questo podcast allenati a capire come puoi dare carezze perché perché questo può migliorare non soltanto la tua autostima ma può migliorare anche quella degli altri quindi dobbiamo imparare a dare le carezze che vogliamo dare che vogliamo dare agli altri no aspettate faccio muto un attimo a Narita quindi dare carezze che vogliamo dare agli altri quindi carezze positive feedback utili affinché l'altro possa migliorare no e non sterili critiche che restano lì e possono semplicemente andare a minare la relazione quindi proprio anche da oggi in poi pensa a questo cioè dare impara a dare carezze che anche tu vuoi dagli altri in qualche modo carezze positive feedback positivi cioè talvolta viene vista questa cosa come un po' un pericolo no elargire carezze positive agli altri no ci sembra un po' una una cosa un po' da affettivi una cosa che va poi alla fine no chi siamo noi madre Teresa di Calcutta no che dobbiamo essere buoni buonini con gli altri in realtà saper imparare a dare carezze colma il profondo desiderio di riconoscimento che ognuno di noi ha ed evita l'innescarsi dei conflitti quindi questo veramente può procurare una buonissima conseguenza su noi e sugli altri un'altra cosa che dobbiamo secondo me imparare a fare è chiedere carezze di cui abbiamo bisogno e impara a chiedere le carezze di cui hai bisogno sul fare sulle tue competenze su ciò che sei in quanto persona in quanto essere umano chiedi le carezze cioè non è non è vero infatti che le carezze che rispondono a una specifica richiesta hanno meno valore questo poi ci arriviamo perché secondo me è il punto centrale no ma chiedere carezze fa parte dell'essere adulti fa parte di chiedere ciò di cui abbiamo bisogno è la capacità di chiedere in maniera franca e aperta le carezze desiderate quelle che a volte anche non abbiamo ricevuto da piccoli accettando anche il rischio accettando anche il rischio ecco perché parlo della funzione adulta perché chiedendo una carezza all'altro di cui abbiamo bisogno non è detto che l'altro ce lo dia perché magari l'altro ha attivato dentro di sé come dicevamo prima una di quelle regole non dare le carezze che vorresti dare e quindi dobbiamo mettere in conto che a volte anche chiedendo non arriveranno queste richieste ma queste carezze ma dobbiamo imparare ad accettare il rischio che l'altro possa anche rifiutarsi di dare delle carezze che stiamo richiedendo no in tal caso dobbiamo imparare proprio ad attivarci per comunque imparare a chiedere un terzo punto è accettare le carezze che ci vengono fatte no vedete come è tutto speculare rispetto ai ai cinque ai cinque blocchi no di cui abbiamo parlato prima quindi accetta le carezze che ti vengono fatte quanto è difficile ecco perché abbiamo bisogno ecco perché nell'accademy ci siamo allenati durante questo mese no specie quelle quelle positive no sul nostro modo di essere no rifiutarle è una posizione psicologica estremamente tossica estremamente malsana che ci porta poi in fondo a non riconoscerci per quello che siamo un quarto punto è rifiuta le carezze che non desideri no detto tra virgolette impara a saper rimandare al mittente le critiche che non promuovono la tua crescita attenzione non sto dicendo che devi non so rifiutare tutte le critiche che ti vengono fatte non sto dicendo questo attraverso le critiche noi possiamo crescere ma accorgiti di quando queste crescite queste critiche possono essere e promuovere la tua crescita personale oppure impara a darti carezze positive no essere capaci di autosostegno non è quello di dire ammazza quanto so forte ammazza quanto so figo ammazza quanto so bravo no darsi carezze positive significa essere capaci di autosostenerci sono quelle carezze intime hanno a che fare con la tua capacità di riconoscere le tue qualità e le tue capacità e questo nutre il tuo senso di benessere quindi ci tengo a sottolineare che visto andiamo in conclusione che è necessario allenarsi ecco perché abbiamo creato sfida academy ecco perché questo mese l'abbiamo dedicato alla care challenge ok c'è un ultimo punto che vorrei poi prima di passare alle testimonianze dei ragazzi dell'academy ed è questo ok che c'è un grande inganno l'abbiamo citato all'interno delle dell'episodio di oggi il grande inganno relativo alle carezze qual è è che se tu chiedi carezze allora non sono autentiche no eh vabbè ma io gliel'ho chiesto è normale che mi arriva una carezza positiva ecco questo tante volte è ciò che ci blocca dobbiamo come dicevamo prima dall'adulto essere in grado anche di stare con il fatto che l'altro magari non sarà disposto a darci delle carezze ma eh perché appunto come dicevamo prima l'altro può attivarsi nel nel suo apprendimento dell'infanzia del proprio passato no quello di non dare carezza all'altro no ma dobbiamo secondo me riconoscere questo questo virus delle carezze cioè eh che se chiedi carezza allora quelle non sono autentiche se chiedi le carezze allora quelle non valgono ecco no da oggi se proprio devi fare un esercizio di crescita personale di fiducia personale quando hai bisogno di un senso di riconoscimento di essere riconosciuto chiedilo vai dalle persone che ti circondano e chiedi di essere riconosciuto ma tu cosa pensi di me ma tu cosa pensi rispetto a questa cosa che ho fatto partiamo dalle persone che eh che sentiamo essere proattive positive costruttive per noi questo non renderà meno vere meno autentiche le carezze che riceverai ma è un ottimo punto di partenza per cominciare a allenare la tua capacità di stare con le carezze e quindi aumentare il tuo senso di benessere percepito e vorrei sapere quindi arriviamo al punto quindi vado a sbloccare l'audio di tutti gli sfidanti che sono qui con me quindi ragazzi vi chiedo di smutarvi mi sto facendo anche la richiesta perché vorrei sapere da voi qual è stata l'esperienza di questa care challenge di questo mese di questi 21 giorni se qualcuno di voi gli va di raccontare la propria esperienza a voi la parola intanto do il benvenuto a Lucilla a Luca a Guglielmo ad Anna Rita e a Fabiola ciao Matteo vai Anna Rita eccoci a te la parola raccontaci la tua esperienza va bene intanto volevo salutare tutti e poi va bene non sono stata molto costante nel senso che sono partita in quinta ma poi ho saltarellato un po' qualche giornata sinceramente quella di fare carezze tra virgolette è una cosa che mi appartiene anche se la difficoltà è stata inviarla a persone non dico completamente sconosciute ma quasi visto che ci incontriamo solo nel gruppo e non sempre ci siamo tutti quindi sono rimasta un po' su frasi buona giornata magari inviando un fiore ne ho ricevuto un po' di meno di carezze forse per lo stesso motivo perché non però sono state significative quelle che ho ricevuto e volevo ringraziare anche te in modo particolare perché è stato bellissimo il messaggio che mi ha inviato mi ha permesso di riconoscere una parte di me che normalmente dico non vedo no? che dopo è scontata ho detto mamma se Matteo vede questo di me forse c'è come ti sei sentita quando hai ricevuto questa carezza o le carezze degli altri compagni e anche quella sì riconoscere proprio tutti quei pezzettini che o non si vedono proprio alcuni non si vedono non vedo proprio io o alcune che magari so di avere ma ero lì e dico ah però che bello sono riuscita ad arrivare in questo modo all'altro allora conta è importante quindi è stato molto gratificante bello bello ti sei sentita riconosciuta anche in qualcosa che tu per prima non riconoscevi in te certo certo faccio molto fatica quindi diciamo che lo userò così ogni tanto mi fermavo e pensavo e dicevo ah però se l'ha visto Matteo se ne hanno visto gli altri addirittura attraverso un telefono no? dove non c'è il corpo dove non c'è la fisicità non c'è lo sguardo no? spesso io non uso spesso il video anche perché sono in condizioni magari in ogni spazio e allora è importante e penso quando sono stata con gli altri forse arriva questo questo e questo e l'ho utilizzato così in più sfaccettature quindi io ringrazio visto che adesso sto parlando veramente chi mi ha fatto conoscere o ha semplicemente rispolverato quelle che sono le caratteristiche che ho spesso me ne dimentico le do per scontato addirittura alcune cose non le vedo proprio di me e quindi adesso c'è un modo per tenerle a mente quindi è stata una challenge significativa veramente costruttiva grazie a tutti a te Anna Rita grazie per questa bellissima esperienza questo bellissimo feedback qualcun altro si vuole aggiungere vuole raccontare un po' la sua ma non facciamo passare troppo tempo ragazzi che qui c'è il podcast qui insomma si fa podcasting non è che si fa sul serio vero Guglielmo che si è messo in posizione di beh no intanto grazie a te Matteo per averla proposta e insomma ringrazio tutta quanta l'Academy per le carezze ricevute infatti questo era anche un aspetto che è risultato anche dalla mia esperienza non sono stato costante e ho sottovalutato anche un po' la portata pratica delle carezze dicendo sempre beh lo farò dopo lo farò dopo come ricordavo che era luna di notte e non l'avevo fatto quindi più carezze di risposta quindi quelle condizionate che non di iniziativa benché l'idea mia sin dal primo giorno era quella di comunque garantire per ognuno almeno una carezza e sono state quattro le parole che poi sintetizzano un po' la mia esperienza che innanzitutto è stata un'esperienza che mi ha sorpreso molto dalle carezze ricevute non mi aspettavo che alcuni mi vedessero in una certa maniera piuttosto che in un'altra c'è stata poi invece poi da parte mia nella risposta proprio un atteggiamento di ricerca vedere anche da quelle poche situazioni in cui si è potuto condividere qualcosa insieme nell'academy trovare quell'aspetto dell'altra persona dell'altro membro che mi ha lasciato qualcosa quindi ho cercato anche di andare oltre magari l'apparenza del non parlarsi sempre magari e poi in base alle risposte che ho dato e che ho ricevuto nelle carezze contro carezze come le chiamavo io in cominciare a crederci un po' a quelle cose che gli altri hanno visto di me perché erano cose belle poi ho avuto modo di poter ricevere comunque carezze positive questo è già stato un buon feedback e poi sviluppare la gratitudine e ringraziarli la carezza che mi veniva da dare era sempre un grazie enorme perché poi nel tempo ho capito quanto sia importante davvero la relazione con gli altri e non bastarsi da sé mi ha colpito e finisco mi hanno colpito due cose mentre parlavi e che credo che siano delle carezze importanti magari da poter realizzarlo pratico fare giocare e giocarsi su quello che Mimmo Armiento ha suggerito andatevi a vedere gli altri podcast per chi non lo conoscesse il fatto del sussurro presonno cioè farsi questa carezza a se stessi visto che parlo tanto dell'importanza delle carezze a se stessi è una cosa che avevo perso e che recupererò con questo podcast e poi quello di lavorare che mi ha aiutato tantissimo quello sulle cosiddette promesse di Ulisse le promesse di Ulisse sono quei tipi di carezze che ci facciamo da noi nel momento in cui siamo tra virgolette più lucidi cioè nel momento in cui magari io mi sono trovato che stavo bene mi sono appuntato un pensiero positivo un riconoscimento una carezza positiva mi sono fatta e me la sono insegnata e poi me la sono messa come un post-it per ricordarmelo il momento in cui stavo a pezzi ricorrevo al post-it e il me stesso accarezzato e capace di dare carezze in quel foglio ho occasione di poterlo rincontrare e accarezzarmi in questo senso e questo mi ha aiutato molto tranquillo grazie bello bello e grazie a te grazie a te per l'esperienza chi vuole aggiungersi a dire la sua? vai Fabiola vado io sì allora intanto io partivo da un background assolutamente azzerato riguardo alle carezze nel senso che che sì appunto ero diciamo sono cresciuta sostanzialmente senza credo di averne ricevute forse due o tre nella vita da parte dei miei genitori in tutto e me li sono fatti bastare nel senso che comunque chiaramente dentro di me quelle cose ho fatto in modo che quegli apprezzamenti che crescessero e li ho sempre mantenuti in vita e me li sono fatti bastare insomma quindi detto che l'attitudine non c'era e peraltro anche diciamo l'attitudine è ricevere carezze che è altrettanto una cosa che va allenata in ogni caso e quindi sono anche stata spesso diciamo incapace di ricevere complimenti però ho pensato invece che questa challenge era molto significativa e che onestamente devo dire senza la prima carezza di Matteo quella che ha diciamo dato un po' il via il go a questa challenge non avrei capito la portata onestamente quella quel messaggio quella carezza nella sua semplicità comunque mi ha generato un movimento interno talmente bello e proprio positivo che veramente avrei voluto lanciare raggi di sole a tutto il mondo quindi ho cominciato con grande voglia e ho credito di aver mandato in tutto sei o sette carezze a persone diverse cercando però ogni volta devo dire c'è comunque un lavoro di pensiero non puoi improvvisarla una cosa del genere perché comunque nel nostro caso chiaramente appunto si tratta di persone con cui condividiamo molto poco nella nostra vita e che conosciamo anche da pochissimo tempo quindi i nostri punti in comune sono molto pochi e all'interno di quei pochi punti in comune io volevo realmente trovare uno stimolo positivo da 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 trasmettere perché si sentisse che era autentico perché io volevo davvero che fosse percepita come una cosa non di plastica esattamente non di plastica infatti sono rimasta molto sorpresa del fatto che esistesse addirittura una categoria per per le carezze di plastica è bellissimo e quindi mi sono molto divertita mi sono divertita nel senso che questa cosa comunque mi ha generato tanta possibilità e ho ricevuto poi tanta positività in risposta e poi a un certo punto mi sono fermata e mi sono detta sì però forse adesso qualche carezza per Bianca arrivare di sua sponte nel senso no che tutto quello che avevo ricevuto fino a quel momento erano risposte comunque sempre molto positive sempre molto gratificanti e anche proprio in cui mi vedevo con gli occhi degli altri e quindi questo è stato l'altro aspetto estremamente importante e comunque che ci manca tanto nella vita di tutti i giorni insomma difficilmente al di là di un figlio che ti dice sei la migliore mamma del mondo insomma però che no che chiaramente c'è un punto di vista ecco è una delle carezze che uno forse ci pensa un attimo se è giusto o non giusto prendersi insomma quindi diciamo mi è mancato un po' questo aspetto di aver generato forse degli spunti negli altri però poi mi sono anche detta sì è vero però tu sei una che appare molto poco che comunque non ha questa attitudine a comunicare ad apparire io sono una più che risponde piuttosto che diciamo che lancia lì l'inizio di una discussione quindi devo dire questa è stata invece un altro insegnamento questo è stato un altro insegnamento per me per il futuro e l'altra cosa che mi sono portata a casa comunque è che in ogni caso ne abbiamo bisogno di tutte di queste carezze devo essere più prodiga proprio quando invece mi sento di farlo anche proprio con le persone che mi stanno più vicine bello bello Fabiola proprio sento ma da tutti i feedback che sono arrivati fino adesso sento come questa challenge è stata una veramente un allenamento l'allenamento non vuole essere fin da subito performante noi nell'academy non vogliamo la performance cioè noi spesso e volentieri come sappiamo facciamo coincidere il termine sfida al termine performance invece la sfida è ciò che ci stimola e ci mostra qualcosa di noi è il nostro status delle cose mi piace molto Fabiola e tu dici mi porto via questo fatto che se voglio dare carezze posso darle e dall'altra parte anche posso chiedere carezze anche quando ne ho bisogno che è un altro punto occhio al fatto che tu dicevi prima che tuo figlio è un po' troppo di parte questo è uno dei famosi inganni visto che arriva da una persona che mi vuole bene allora vale un po' di meno in realtà non è così in realtà non è così questo è una delle regole restrittive al fatto di poterci sentire chi se non tuo figlio può dirti che madre sei se ci pensi no quindi bello bello questo fatto che è stato stimolante vedo anche Lucilla se vuoi Lucilla dici la tua se ti va ovviamente se no concludiamo vai Lucilla se ci sei vai sì volentieri in realtà confermo un po' quello che avete detto voi altri compagni di di sfide nel senso che all'inizio credo che il primo messaggio che ho ricevuto sia stato quello proprio da parte di di Matteo che mi ha riconosciuto una caratteristica che io proprio non non pensavo di avere non credo di avere però effettivamente in quel contesto ok ci sta e quindi mi sono detta vabbè prendiamoci questa questa carezza questo complimento questa caratteristica ritrovata che non credo di di avere come tratto principale così un po' in tutti i contesti della mia vita ecco e quindi sicuramente questa è stata insomma l'emozione di esordio ecco della 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 sfida ecco e per gli altri giorni sì mi sono mi sono presa cura in realtà di cercare le persone e volergli dare qualcosa che sapevo che magari in quel momento poteva poteva essere necessaria per loro magari perché avevano detto di sentirsi in una determinata maniera e quindi ho pensato che un piccolo pensierino poteva fargli piacere non sono stata molto costante questo è vero però voglio dire perché non non mantenerla anche nei prossimi giorni cioè una cosa che veramente ti occupa in concreto un minuto al giorno e quindi se ti capita di pensare a una determinata persona perché non mandargli magari un pensiero positivo anche semplicemente degli guarda oggi ti ho pensato per questa cosa qua buona giornata ciao e pensavo magari di farlo anche con un paio di persone che sono uscite dal gruppo e con cui comunque si era si era creato un bel rapporto e quindi magari senza senza l'hashtag della sfida che tanto non saprebbero neanche magari che cos'è però uno lo può fare non è che è una cosa che scade o che ti vincola che è una cosa carina che se ti senti di farla la fai sì allora io prendo l'assist di quello che sta dicendo adesso Lucilla anche un po' per concludere questo episodio e soprattutto questa nostra bellissima condivisione della challenge del mese di maggio che sarà questa dedicata appunto alle carezze cioè che in fondo noi non siamo obbligati a dare o ricevere carezze psicologiche non siamo obbligati così come non siamo obbligati a entrare in fondo in relazione con gli altri non siamo obbligati però quando lo facciamo e se lo facciamo facendo una carezza all'altro facendo attenzione a questa dinamica qui ecco che la relazione può veramente diventare uno strumento di fioritura personale perché noi siamo il frutto anche delle relazioni che ci circondano quindi se vogliamo veramente anche far fiorire ciò che c'è intorno a noi non soltanto essere noi o no con gli steroidi della crescita personale perché adesso mi metto a fare tutto l'istro mi metto a fare l'uomo invincibile o capisco tutto il mio passato in un minuto in un'ora no cioè a volte per poter fiorire abbiamo bisogno di cose piccole e la carezza come abbiamo detto prima l'analisi transazionale è l'unità più piccola del riconoscimento e quando noi riconosciamo gli altri e siamo riconosciuti dagli altri anche in qualche aspetto nuovo a me piaceva tantissimo quello che diceva Lucilla no? cioè Matteo il tuo feedback mi ha stupita perché è andata a prendere un pezzetto della mia personalità che io non reputo centrale e proprio in virtù di questo pensavo che non mi appartenesse invece vedi come attraverso un feedback magari non centrato su una tua caratteristica che tu magari reputi centrale no? vedi come l'altro diventa un uno specchio no? un modo per essere riconosciuti e per riconoscerci cioè poter conoscere noi stessi noi sappiamo che la nostra felicità dipende da quanto conosciamo noi stessi e allora per poter conoscere noi stessi abbiamo bisogno anche degli altri non siamo obbligati a entrare in relazione con gli altri ma quando lo facciamo e se lo facciamo con il con le carezze è sicuramente uno strumento prezioso vedo Luca che si sta aggiungendo adesso proprio sul gong vediamo un attimo Luca vediamo se riesco ad agganciarlo proprio per sentire la sua esperienza finale vediamo perché dovete sapere che Luca si sta collegando dal Trentino in vacanza e sta capito in mezzo alle montagne non so quanto riesce a prendergli il telefono vediamo un po' diamogli ancora qualche istante eccolo Luca ci sei? sì dici al volo la tua esperienza delle carezze qual è stata da partire dal festival dell'analisi transazionale al quale hai partecipato alla challenge del mese di maggio in sfida academy allora dunque sono di quelli che non fa facilità a fare carezze perché ho ricevuto forse più critiche nella vita che altro o forse non ho mai dato tanto peso alle carezze positive durante la sfida ho apprezzato molto quelle che mi sono arrivate di carezze perché mi hanno dato l'occasione di guardare degli aspetti da esterno della mia personalità che a volte magari non ci fai troppo caso a cui non dai peso e un'altra cosa che stavo ripensando adesso è anche il fatto che quando fai la carezza io ho cercato di fare un po' carezza a tutti ovviamente è rimasto più facile farlo con chi avevo con chi ci avevo già magari un feeling avevo scambiato qualche parola però nel fare le carezze è un po' come quando fai un regalo che tu lo fai stai lì in attesa di vedere se poi chi lo riceve accetta cioè è un regalo che piace o meno quindi stai lì un po' con l'indirizzo faccio la carezza speriamo che piaccia e poi quando ricevi anche un po' il feedback o il grazie di ritorno sei contento la tua volta è bello è bello e ti sposta anche no la giornata tante volte io per esempio riascoltando i vostri feedback la cosa impressionante è che punto numero uno ti rendi conto che te ne accorgi quando hai una carezza di plastica davanti te ne accorgi e quindi aver ricevuto queste carezze incondizionate quindi legate all'essere è stato bellissimo e mi ha dato la possibilità anche in alcuni momenti proprio di raddrizzare il corso della giornata cioè le relazioni sono il fattore numero uno rispetto alla nostra felicità e quindi come possiamo prenderci quella delle nostre relazioni tante volte uno pensa ah imparare a dire di no imparare a dire di sì metti i confini a destra metti i confini a sinistra no impara a dare carezze quindi lo stimolo che vi voglio lasciare è quello che diceva anche prima non so se Lucillo o Fabiola o anche Annarita continuiamo a farlo continuate a farlo nella vostra vita cioè Sfida Academy mi serve a questo a prendere un elemento di crescita personale di feritura personale per poi poter vedere l'effetto che fa e se ci piace portarcelo anche nella nostra vita di tutti i giorni cioè questo ha come scopo lo Sfida Academy questo ha lo scopo questa questa challenge no e ogni challenge che viviamo insieme quindi portatelo ognuno di voi nella propria vita è bello interessante che ognuno di voi ha sostanzialmente esplicitato la propria economia delle carezze no spesso e volentieri noi cos'è che abbiamo imparato che non è facile dare carezze che non è facile ricevere carezze non siamo abituati a farlo più spesso siamo abituati a ricevere critiche piuttosto che carezze quindi un certo tipo di carezze carezze negative no come vi ho detto prima e ognuno ha la propria economia delle carezze come possiamo diventare noi come posso dire no come si chiamano quelli che vanno in borsa i trader no come si chiamano trader i trader ecco vogliamo fare veramente i trader di noi stessi ecco rimettiamo mano sulla nostra economia sulla nostra economia delle carezze impariamo a darla ogni giorno anche un piccolo riconoscimento l'abbiamo visto prima non servono grandi feedback strutturati se vogliamo farlo ben venga ma a volte anche basta semplicemente uno sguardo di compliance no uno sguardo di di riconoscimento io ti vedo oppure hai fatto bene ti voglio bene mi piace quello che hai fatto oppure non mi piace quello che hai fatto proviamo a cambiare in quest'altra direzione ecco entriamo in relazione e in uno scambio sano con l'altro perché attraverso questo scambio potremo sicuramente riequilibrare la nostra economia delle carezze soprattutto nella direzione ovviamente della nostra autostima e del nostro benessere personale eccoci qui ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast che è stato arricchito anche dall'esperienza dei ragazzi di Sfida Academy che proprio in questo mese di maggio che si è appena concluso hanno fatto esperienza della Cards Challenge cioè la challenge la sfida dedicata alle carezze e come poi anche tu aver scontato le loro esperienze hai capito dare ricevere carezze non è una roba facile eppure è lì è lì alla base delle nostre relazioni umane delle nostre relazioni sociali ed è proprio attraverso la cura delle relazioni che abbiamo intorno a noi e con noi stessi che possiamo veramente fiorire come esseri umani ma ciò che sta facendo fiorire questo podcast e mi sta permettendo di continuare a creare episodi su episodi al tuo servizio per la tua crescita personale sono i finanziatori chi sono i finanziatori? sono coloro che ascoltano questo podcast e episodio dopo episodio decidono di aiutarmi di sostenermi economicamente nella sua creazione sto parlando di Brunella Gambino Alessandra Rossato Elena Altratto Donatella Taverna Angelo Cetera Stefano Arlati Maristella Occhio Nero Davide Forgione Paolo Gagge non riesco a parlare oggi non riesco a leggere Guerino Danilo Cozzolino Andrea Guido il mitico Ciro Zinno Francesca Ferrari Elisa Scarantino Francesca Porcelli Anna Rita Corsi Paolo Domenico Luca Fabracci Salvatore Latina Mary Ecates Lorenza D'Andrea Rosa Maria Muratori Fabio Lascascitelli Simona Flower Michele Russo Fabrizio Imola Bicchetto Alessandra Pierluigi Vittoria Borgia Luiz Antonio Gagliardi Prado Giovanna Verde Maria Rosa Ranieri Claudia Moncado Zendo Gresner Natascia Zanola Taurino Leonardo Alessandro Raso Lucilla Alberto Pala Marco Mercuri Rosanna Golfetto Michele Musano Alfonso Moschese Silvia Spinelli Barbara Bechelloni Letizia Vibi Fortuna Marrone Giovanni Enrico Francesca Marocco Daniele Michetti Croce di Michele Mattia Pola Andrea Molinari Robert Sara Veltri Veronica Cardullo Savino Serra Alessandro Fabrizio Carmelo Conti Francesco Maggioni Alessia Cecconi Ecco questi sono i finanziatori che permettono a me e a te di continuare ad ascoltare questo podcast mi permettono di crearlo e se anche tu vuoi aiutarmi e sostenermi concretamente vai nelle note di questo episodio clicca sul link diventa finanziatore e scopri qual è il modo il livello di finanziamento che fa più al caso tuo che è un modo secondo me per non soltanto restituire la tua gratitudine nell'ascolto di questi podcast ma è un modo soprattutto per sentirti parte integrante di questo progetto che è Liberamente insomma ragazzi io ancora una volta vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del podcast e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio sempre qui su Liberamente mi raccomando sappiate che se la prima volta è passata da queste parti che il podcast non si ferma qui esiste un canale telegram segreto privato delle menti libere ci potete accedere scrivendo a me personalmente sul mio contatto personale Matteo Neroni la frase sono una mente libera da quel momento e poi anche voi farete parte di tutta quanta la nostra meravigliosa community ragazzi allora grazie ancora una volta un abbraccio a tutti e buona crescita e fioritura personale di ogni giorno non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare il potere di cambiare accetta il tuo passato vivi il tuo presente e costruisci e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia tutta la tua energia perché la tua vita migliora perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare quando sei tu a migliorare questo è Liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di per liberare la tua mente ogni giorno di a cura di Matteo Neroni